Edilizia scolastica sostenibile al centro di un incontro con la cittadinanza organizzato nell'ambito del dibattito che si sta svolgendo in città sulla riorganizzazione dei plessi scolastici. Noi ne parliamo con un esponente del Partito Democratico che è Nicola Cardinali. Il senso di questa iniziativa? Sì, vi ringrazio. Il senso dell'iniziativa è questo. Noi abbiamo voluto fare questo incontro per due motivi. Sostanzialmente la nostra città ormai necessita da tempo di un nuovo edificio per le scuole elementari. È un tema che appassiona la città ultimamente ed è al centro anche di un dibattito particolarmente sentito. Altro aspetto importante è quello di legare questo tema con la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e la bioarchitettura che sono elementi alla base di un ambientalismo non fatto di slogan, non fatto di retorica ma fatto di azioni concrete come un'amministrazione comunale di un comune anche più piccolo del nostro è riuscito a trovare dei risorsi, ha messo in campo una progettualità, ha dato una scuola efficiente, energeticamente in grado di risparmiare e che può essere presa come riferimento importante anche per realtà come la nostra. Non ci sono verità assolute però questo è sicuramente un esempio da tenere in considerazione. E infatti il Partito Democratico ospita il comune di Montelupo e Fiorentino e siamo con il sindaco di questa municipalità, la signora Rossana Mori, che ha avviato, ha realizzato una scuola primaria ecosostenibile. Vuole riportarci questa esperienza? Certo, l'esperienza è nata innanzitutto dalla volontà di volerci impegnare nella riqualificazione ambientale di un territorio che per anni aveva visto convivere l'industria insieme alla residenza. Quindi diciamo ci sono operazioni propedeutiche a questa realizzazione che sono una fra tutte il trasferimento delle attività produttive dal centro alla periferia. Con questo intento della valorizzazione del nostro territorio siamo arrivati alla determinazione di voler essere anche un esempio per la nostra cittadinanza. Quindi la scelta di realizzare opere pubbliche che fossero ecosostenibili ed ecocompatibili. Una scelta che fra l'altro è stata anche premiata. Certo, la realizzazione della nostra palazzina scolastica, che è una parte del nostro polo, ha avuto il premio Best of da Casa Clima perché siamo riusciti durante il percorso progettuale di realizzazione ad ottenere la certificazione classe A di Casa Clima.